Ci sono i ragazzi della Croce Rossa Pionieri che fanno giocare i bimbi durante la giornata giocano a pallone oppure fanno dei giochi dentro, è una ludoteca, lì dalla mattina ci fa anche l'orario e praticamente ci sono dei giochi, scusate, ci sono i ragazzi qui che fanno giocare i bambini Ciao ragazzi! Ciao!